Ciao, benvenuti a tutti su Goldi Unicorn Art. Come state carissimi e carissimi? Oggi voglio proprio fare una domanda a stesa diretta sull'amore. Voglio proprio chiedere se ci sarà qualcuno che ti amerà veramente tanto dal 2024 in poi, quindi da adesso in poi, e ti accetterà così come sei. Ecco, cerchiamo di manifestare, di chiamare a noi delle buone energie con questa stesura. Cerchiamo di sentire la parte più alta, la parte più alta di noi per entrare in risonanza con questa canalizzazione. Quindi andiamo un po' a vedere le prime carte, diciamo, dell'energia e poi andiamo ad approfondire, come sempre. Allora, carissimi, spero che stiate tutti bene e che siate in forza per chiamare a voi, chiamare a sé, non nel senso di attrazione, chiamare a sé il meglio per voi. Allora, qui abbiamo lo spirito del fiume e non poteva venire carta più bella, perché la vita è un divenire, proprio come un fiume. E quindi il fiume ha tantissimi significati, però rappresenta proprio che più siete naturali, più siete voi stessi. Questa persona che voi volete amare ed essere amati, arriva con questo movimento anche interiore. Questo rappresenta anche il movimento verso l'avventura della vita. E qui abbiamo tanti bei pensieri, perché la florite comunque ha i colori proprio del cuore, dei chakra del cuore. Quindi è come se voi in questo momento aveste proprio dei pensieri importanti. E questi pensieri importanti ti dovranno portare. Il fiume arriva, passa, viaggia, arriva sempre dove deve arrivare. Sfuocate i ricordi, è come se dicesse questa carta, andate avanti, perché improvvisamente tutti i pensieri pesanti vengono svaniti da questa corsa del fiume. Tutto lo stress ha bisogno di essere lasciato proprio nel fiume. Oggi io parto con una croce celtica. Vediamo che cosa ti vogliono dire su questo amore che verrà. Proprio a te. Questo amore viene proprio. Tu ce l'hai dentro, quindi non devi fare altro che manifestare all'esterno. Sei tu che, se sei pronta, se ti senti pronta, se ti senti in questo fluire, tutto dipende da te. In questo momento la forza si è momentaneamente, come dire, fermata, ma sta per iniziare il suo corso. Guarda, nel tuo inconscio ci sono tantissime cose che stanno emergendo. Stanno emergendo, sta emergendo, mi viene da dire, sia l'ombra che la luce, ma stanno emergendo per essere guardati e perché tu possa fare una scelta. Guarda, è tempo che tu hai un desiderio molto forte d'amore, che si muove dentro di te. Tutto questo divenire che si è come fermato da una diga di pensieri, adesso riprende il suo flusso. E guarda, guarda un po' qui che c'è. Arriva proprio, questo è sul presente, quindi questa sei tu e sul presente arriva questo imperatore. Ricordatevi sempre che faccio le carte al femminile perché è più semplice la canalizzazione. Quindi qui abbiamo nel presente, quindi se tu, cioè qui ti stanno già dicendo, se sei pronta arriva subito quello che vuoi. Chi vuoi? L'imperatore rappresenta proprio con l'imperatrice la persona giusta per te. Non andiamo a guardare i significati dell'imperatore che alle volte qualcuno dice può essere rigido così. No, l'imperatore rappresenta il maschile, il maschile assoluto, il maschile centrato col suo scettro. Quindi è una persona equilibrata, forte ed equilibrata, come l'imperatrice che a sua volta ha il suo scettro. E ha una grande visione anche sempre l'imperatore, visto che ha sempre l'aquila con sé. Quindi ha la grande visione del futuro. Voi avete la visione della pace, la pace della coppia. E avete lavorato tanto per avere grandi soddisfazioni. Allora questa era qui. Grandi soddisfazioni avrete. E soprattutto grande equilibrio. Le stelle, c'è qualcosa di destinato che stai per incontrare. Mentre il fiume scorre la prima carta nel suo letto, il suo letto del fiume. E questo fiume che scorre va proprio incontro al meglio, ma anche alle stelle del destino. E con la temperanza. Sono proprio magiche queste carte. Quindi con la temperanza, con la pace. Quindi c'è equilibrio, destino, pace. Il giudizio, il giudizio universale. Come dire comportati bene. Sappi che è molto importante che tu ti senta integra o integro dentro di te. Perché il giudizio comunque rappresenta anche la notizia. Quindi è probabile che tu abbia prima notizie di questa persona. E poi arrivi realmente la persona che tu senti, che tu manifesti. Che dire? Andiamo a vedere chi è questo imperatore. Andiamo a vedere chi è. Le sue caratteristiche, la sua personalità, cosa vuole, cosa pensa, cosa penserà, cosa succederà. Allora intanto andiamo a vedere chi è. È una persona che tu potresti già aver conosciuto e potresti anche aver allontanato o viceversa. Vi siete allontanati. Però è anche vero che potrebbe essere una persona nuova che ha chiuso con una persona. Magari molte persone di voi stavano con una persona, per dire impegnata, e ha chiuso una relazione. Comunque ti ha proprio nella mente, nel cuore, questa persona. Allora, è una persona alla fine comunque che si dimostra pratica? Con i piedi radicati. Che vuole, anzi mi viene da dire, che si sente molto attratto dalla tua spiritualità. Si sente attratto dalla tua eleganza, dalla tua sobrietà anche, mi viene da dire. Dalla tua semplicità. Questa personalità, perché l'imperatore rappresenta più l'archetipo. Gli arcani minori rappresentano più i particolari. Quindi l'archetipo del maschile. Che tipo di maschile è questa persona? Una persona che comunque sa essere anche generosa. Che vuole amare. Che vuole senz'altro il successo. Vuole il successo un po' in tutti i campi. Ma vuole il successo nell'amore anche. Non si sentirebbe completa questa persona se non avesse il successo nell'amore. Quindi chi è questa persona? Una persona a cui piace, diciamo, sentire l'altra persona dentro. Vediamo un po' con queste. La vuole sentire crescere dentro di sé. Quindi così come il successo nella vita. Per questa persona, comunque, visto le carte anche che sono uscite, il successo è anche non avere più conflitti. Questo è una delle peculiarità della personalità di questa persona. Ora come ora, questa persona vuole una nascita, un nuovo inizio. Vedrai che a un certo punto sentirai qualcosa dentro di te. Perché siete molto collegati. Siete molto collegati. Comunque, senz'altro vuole incontrarti. Vuole incontrarti in un posto, in un luogo. Sì, può essere un luogo di ritrovo, ma vuole che sia una città o un paese speciale, particolare, mi viene da dire. Vuole che questo fiume, mi viene da dire, sia un luogo un po' specifico, mi viene da dire. Quindi non ti vuole incontrare così. Ti vuole incontrare in un luogo, potrebbe anche essere un ristorante, ma a me viene una città o un posto. Magari questa città vi ricorda qualcosa, oppure ricorda qualcosa a lui, o ricorda qualcosa a te. Oppure vuole trovarti in un bosco. Insomma, sente la magia sorgere da dentro di sé, questa persona. Quindi vediamo un po' di più su questo luogo. Questo luogo vuole trovarti o ritrovarti, se lo conosci già, in un luogo. E questo luogo ha a che fare con la vostra anima, perché è come se questa persona sentisse che c'è un luogo dove vi siete conosciuti, magari anche in un'altra vita. Oppure è un luogo così magico che tocca profondamente le vostre anime. Direi che è una persona profonda comunque, è una persona che naturalmente ha i piedi piantati per terra, ma è una persona che ha una profondità. Secondo me questa è una persona che vuole amare totalmente, mi viene da dire. Se no, non inizia neanche. Se ha iniziato, perché magari la conosci, può aver sbagliato questa persona e rendersi conto di questo errore. Adesso sente la sua anima, sta chiamando questa persona per trovarti o ritrovarti, se la conosci. Beh, qui c'è un grande lavoro a proposito di personalità. Probabilmente questa persona prima, fino a non poco tempo fa, a non molto tempo fa, poteva essere una persona che aveva a sua volta, un po' come te, dei condizionamenti, ma è riuscito a scassinare questi stereotipi, questi condizionamenti. Quindi sente proprio un'energia nuova. È proprio come se dicesse, come fa vedere questa carta, andatevene pensieri, andatevene pensieri perché io ascolto qualcosa di più grande, ascolto la verità dentro di me, la verità della mia anima. Quindi direi che questa è una personalità piuttosto poliedrica, ma che sente molto l'interno. Prima era rivolta molto all'esterno, adesso è rivolta più all'interno, questa persona all'interno di sé. È per questo che riesce, come dire, a trovarti per la prima volta o a ritrovarti, proprio perché ha deciso di non ascoltare più, diciamo, i fenomeni del mondo esterno. Vuole andare dentro, perché sa che dentro c'è qualcosa, la coscienza lo sa, lo sente, che può soddisfare ed esaudire i suoi palpiti, mi viene da dire, i palpiti del suo animo o della sua anima. Quindi tu, vediamo un po' come ti vede, come vede te questa persona? Vediamo un po' come ti vede. Come ti vede questa persona? Abbiamo descritto lui o lei, naturalmente, come ti vede questa persona, visto che è scesa così in profondità, per trovarti da dentro. Ti vede come, d'altronde, è rivenuta, sì, anche come imperatrice, quindi come la donna forte, come la donna matura. Ti vede come la donna matura, ma ti vede anche come la persona che a sua volta è matura per affrontare una relazione vera e autentica. È come se dicesse, adesso sento che è il momento giusto per ritrovarci o trovarci. Comunque ti vede come una persona che ha lottato tanto nella sua vita, forse, se lo conosci già, hai lottato anche per conquistarla, questa persona. E se così fosse, ci sei riuscita. Forse ci sei riuscita più nella distanza, perché a tua volta ti sei liberata da tante cose. Ti sei liberata dalla prigione interiore, anche tu dagli stereotipi. Comunque ti vede così questa persona, come vede un po' se stessa, cioè come una persona che si è liberata davvero anche della voglia di rimproverare, di giudicare. Ti vede veramente, ti sente, ti percepisce veramente matura. Per questo che sente il desiderio di incontrarti in un luogo speciale. E deve essere un luogo che va a chiamare le vostre anime, perché si ha la sensazione da questa stesa che questo luogo sia un po' fiabesco, ma fiabesco per voi due. Naturalmente per ognuno di voi sarà un luogo diverso. Quindi ti vede come una persona che non si è evoluta bene. Ed è come se volesse risvegliare in te l'amore che si è risvegliato in lui. Forse molte persone di voi hanno accettato anche, accettato dei compromessi nella vita. Forse tu stessa le volte prima hai accettato nella tua vita, in questa relazione o in una precedente relazione, hai accettato delle cose piccole, non ti sei evoluta bene. Lo sa questa persona, però sa che hai una grande capacità di amare, perché qui stiamo guardando come ti vede questa persona. sa che se sei stata non buona le volte con te stessa, sa che adesso sei pronta, sei matura alla totalità. La prima carta ricordiamoci che è il fiume. E come fa a saperlo? Lo sente la sua anima. Magari questa persona, mi viene da dire, ha fatto dei sogni, per cui ha capito, ha sentito, magari qualche vostra guida vi ha avvisato, qualche angelo. Quindi questa persona ti vede pronta alla totalità, molto pronta. Vi sente pronti entrambi. Andiamo un po' a vedere al lato pratico. Allora, abbiamo guardato chi è, abbiamo guardato come ti vede, e adesso andiamo a vedere le azioni vere che farà questa persona che vorrà venire, che sta per venire verso di te, perché tu sei pronta. Beh, il vostro è proprio un gioco di inconscio, di sogni, di simbologia. È tutto un vostro sentire per adesso, no? È un sentire che cresce come un seme piantato nella terra, ma che a un certo punto fiorisce, esplode, muore, e rinasce. Quindi è come se qualcosa di voi fosse stato veramente lasciato andare via per sempre. Ed è qualcosa che ha a che fare con i limiti, da come si vede, eh, qui. Quindi qualcosa che è stato duro lasciare andare questa persona, quindi adesso vuole proprio fare un'azione, vuole fare un'azione che sta forgiando dentro di sé, la sta preparando come un fabbro. Quindi sta preparando un'azione potente, mi viene da dire, e ci mette tutta la sua forza, tutta la sua energia, eh. Ci mette tanta enfasi, mi viene da dire. Quindi sente, è proprio come ispirato, è proprio come un poeta questa persona. Viene ispirato a forgiare qualcosa di azzeccato, mi viene da dire, di giusto per te. proprio perché è crollato l'ego qui, eh. Quindi questa persona, come ti dico, come abbiamo visto prima, era una persona che poteva avere dei limiti, forse è una persona che ti ha fatto soffrire, forse è una persona che non conosci, ma che non ha mai sentito un desiderio così prorompente, così forte di amare qualcuno. È come proprio davvero se la sua anima chiamasse questa persona e la chiamasse a te. E quindi sente che vuole fare, vuole forgiare come un fabbro qualcosa di molto profondo che però toccherà tantissimo il tuo cuore. Nello stesso tempo questa persona, l'azione che farà, avrà un senso di protezione. Tu sentirai proprio un abbraccio. Lo dovresti già sentire adesso, perché sentire è un po' come prevedere, perché prevedere vuol dire chiamare a sé, no? Dovresti sentire l'abbraccio caldo, lo sforzo anche, perché è questo fabbro. ha lavorato duramente, come sicuramente hai fatto anche tu, e lo sa. Quindi questo fabbro lavora tanto per darti però poi un'azione delicata, mi viene da dire. Si esprimerà delicatamente, proprio come una madre con un figlio. Quindi sarà un calore senza dubbio che sentirai dentro. Sentirai anche lo sforzo che ha fatto questa persona. Quindi, sono anche incuriosita per capire proprio questa azione così pensata, così fabbricata da dentro il suo cuore, così nello stesso tempo materno-paterna. Sono curiosa di sapere questo luogo. Naturalmente andremo a vedere le simbologie. Questo luogo che deve essere specifico per questa persona, deve essere un luogo speciale, un luogo di ritrovo. Che energia può avere quindi questo luogo specifico, quindi questa città, questo paese, che energie, che metafore ci possono rappresentare. Beh, ecco, è un luogo, pensa, non l'avrei detto proprio, è un luogo dove questa persona riuscirà proprio a dimostrarti, guardiamo il re di coppe, il suo amore ma anche la sua gioia. Il polpo è un animale molto gioioso. Quindi questo luogo è molto importante per questa persona, il luogo di ritrovo, perché già il luogo, come dire, aprirà i vostri cuori, no? È proprio come andare in un viaggio, in un posto specifico. Quindi il luogo è molto rappresentativo per questa persona, per dimostrarti il suo amore. È un luogo con molta profondità, potrebbe avere, non necessariamente è nella natura, anche se qui viene la natura, ma la rappresentazione di questo luogo deve proprio rappresentare una simbologia vostra, mi viene da dire, qualcosa di vostro che ha della profondità. Quindi il luogo vi aiuta, questo vogliono dirvi le carte. E guarda, re di coppe, regina di coppe, senza dubbio, come sempre, le carte hanno la sincronicità. È come se il luogo fosse il posto giusto per amarvi, per dichiarare il vostro amore, re e regina di coppe. Quindi molta sensibilità, molta empatia, perché abbiamo l'acqua dei re di coppe, e molta profondità. Qui abbiamo un pozzo che va riempito. forse questa persona ti potrà dire, io ero un po' come un pozzo vuoto, ma adesso voglio che questo pozzo si riempa dell'acqua, del fiume, del tuo fiume. Voglio riempirlo con questo amore. Quindi queste vibrazioni, di questa stesa, vi porteranno davvero a questo amore. Chi verrà ad amarti da questo momento in poi? È la persona che hai dentro. Se tu ti ami, non potrai che manifestare all'esterno questo amore che ti rappresenta proprio come un riflesso, come uno specchio. l'esterno è un riflesso. Quindi, che dire, il luogo è un luogo semplicemente che anch'esso vi sostiene in questo nuovo viaggio di voi due. Quindi, a questo punto, andiamo un po' a vedere con i tarocchi più classici, diciamo, anche gli altri lo erano, ma questa si è girata. Guardate, chi verrà ad amarti? Verrà proprio qualcuno ad amarti. Abbiamo di nuovo la regina di coppe, senza ombra di dubbio. A questo punto è inutile forzare, perché abbiamo guardato tutto. Abbiamo guardato chi è questa persona, abbiamo guardato cosa pensa di te, cosa vuole da te, cosa gli è successo. Quindi, tutto è chiaro. Noi, a questo punto, andiamo a vedere qualche parola che ti dirà questa persona. Siamo molto dentro in questa stesa. Beh, qualcosa che ha a che fare con l'anima, vedete, la sincronicità, no? è tutta una cosa di anima, quindi non dovete fare altro che mettervi in contatto con la vostra anima e non ascoltare per niente i dubbi della mente. Prima non sapevo dove andare, ti vuole dire, questa persona, finché ho sentito questa connessione, questa connessione di anime. Era tanto tempo che non sentivo, non ascoltavo la mia anima, ma nel momento in cui l'ho ascoltata non ho avuto dubbi, non ho avuto dubbi che c'era una persona che faceva al caso mio e questa persona poi ho capito o capirò che sei tu. E quindi è come se avessi in questo momento con te, le prime parole che ti dirà, con te sento tutto il firmamento che ci protegge. Ecco, mi viene da dire che questo luogo simbolicamente è un po' come il firmamento, come una cupola dove voi due siete dentro, voi due siete dentro nella magia, in modo che nei pensieri, nel mondo con i suoi problemi vi possano toccare. Questo è come dire il principio che una persona deve sentire. Poi naturalmente i problemi nella vita ci saranno sempre, ma voi sarete anche la forza per affrontarli, questi problemi. quindi queste sono le sue prime parole. Vedi che c'è la sfera protettiva, ho appena detto è come un firmamento, c'è proprio come una sfera, si vede che davvero questo luogo per voi due sarà magico perché la sfera poi la creerete voi di fatto, no? Quindi questa persona ti vuol dire ero freddo prima, ero indifferente alle lacrime, ero pensavo alla mia determinazione, ricordiamoci che ero uscito anche con un po' come un re di denari, no? Mentre adesso è proprio stato un click, ho sentito dentro di me come uno schioccare di dita nella mia anima e quindi ho sentito l'impulso di agire come una spinta e quindi io ora sento il profumo del nostro amore perché il profumo del nostro amore riempie qualsiasi spazio. Belle parole. Allora chiudiamo questa meravigliosa stesa con le carte del divino. Cosa vi vogliono dire le carte del divino? Operare miracoli. In sostanza ti dico già che entra in risonanza con questa stesa vedrai che ti chiamerà da dentro, ti ispirerà da dentro. Queste stese servono proprio per ispirarsi. Hai affrontato prove, ne affronterai ancora ma ti sentirai forte e sicura, riuscirai o sicuro a fare proprio dei miracoli perché la speranza questa volta non è solo una speranza vaga, ma è una speranza che diventa certezza. Quindi qui c'è un senso ti dice l'angelo Sitael c'è proprio un senso di nobilità del tuo cuore e magnanimità. Quindi se tu parti da questa sensazione di nobilità del tuo cuore vedrai che tutto accade. Ciao carissimi e carissimi sempre grazie per l'ascolto. Un abbraccio.